salve a tutti sono qui per fare una rettifica in quanto avevo fatto un errore sulla data del 2 di aprile in quanto non avendo lo stesso calendario da tanto tempo l'ho cambiato e ho fatto un errore la data del 2 di aprile a cui riferivo un evento in particolare era per il 26 di maggio scusatemi per il 26 di marzo il proprio stiamo andando i numeri e è successo qualcosa effettivamente ma non è quello che mi aspettassi diciamo e la data in realtà dell'evento sarebbe domani l'otto di aprile vedremo cosa succederà e scusate